Per il ciclo Padri e Figli Sto giocando a scacchi con papà. È un gioco come Monop. Il suo straordinario talento per gli scacchi. Suo figlio crea come Fischer, come lui sa andare oltre. Il piccolo campione saprà trovare la sua strada. Papà, forse non dovremmo andare agli finali. Ho paura di perdere. Non lo faccia andare là a perdere. Ne uscirà distrutto. In cerca di Bobby Fischer. Giovedì alle 20.55. Giovedì alle 20.55.